Carlo V nasce a Gando nel 1500, muore a Juste, un piccolo convento della Spagna, un piccolo palazzo nel 1558. 58 anni dunque, tutta la prima metà del XVI secolo, anni difficilissimi, anni segnati in Europa dall'espansione dell'impero ottomano che conquistano una parte della presa balcanica, arrivano nel 1229 a minacciare Vienna, gli anni segnati dalla rottura in forma protestante, Martin Lutero, 1517, anni segnati dalle dure guerre d'Italia, gli anni venti che vedranno nel 1527 Roma saccheggiata dai Lanzi Chenecchi, l'esercito di un imperatore cristiano, un esercito fatto in una parte da luterani che vorranno distruggere la stessa capitale della cristianità occidentale, gli anni che vedranno Carlo diventare re di Spagna, è un re di Spagna che vive in quegli anni la grande espansione coloniale, vive sulla conquista dell'America centrale, dell'America meridionale, vive la sconfitta dei nativi, la scomparsa di una parte dei nativi. Carlo V, quindi il grande imperatore, rimane a noi oggi ricordo forse di qualche luogo comune, l'imperatore nel cui territori, nel cui domini non tramontava mai il sole, o rimane l'imperatore che negli ultimi anni si ritira in un piccolo convento. Ebbene, Carlo V è stato raccontato alle volte come l'imperatore sconfitto, come un sognatore, quasi appunto l'eroe di un mito romantico, ma Carlo V non è mai entrato nei miti letterari. Di Carlo V oggi non abbiamo neppure statue, solo a Palermo c'è una statua nel centro storico, costruita nel 1630, che ricorda Carlo V. Carlo V lo troviamo solo nei quadri, il grande ritratto che Tiziano fa di Carlo V, 1548, Carlo V imparatore cristiano che sconfigge i protestanti, ma Carlo V non ha sconfitto i protestanti, Carlo V li ha sconfitti militarmente, ma non ha sconfitto la chiesa protestante. O l'altro grande ritratto di Carlo V, V, più privato, forse questo ci rende meglio a Carlo V, sempre di Tiziano, Carlo V è il suo cane. Ecco questa duplicità di immagini, forse ci ricostruisce la complessità di questo personaggio dell'Europa del VI secolo. Carlo V è imperatore cristiano con la lancia, quando fosse un nuovo San Longino, quello che con la lancia aveva ferito Cristo ma poi si era convertito, la lancia segno degli imperatori romani, sullo sfondo la campagna dove si intravedono ancora le truppe, la lega di Smalcalda, i protestanti sconfitti e l'altro, Carlo V con il suo cane, Carlo V privato. Rimane di Carlo V un'associazione creata qualche anno fa, in qualche modo una di quelle associazioni che predicano, che organizzano gli itinerari storici dell'Europa, quasi identificando nell'itinerario, negli spostamenti di Carlo V una delle radici dell'essere europeo, quello che si chiama la rete degli itinerari dell'imperatore Carlo V, ma forse Carlo V non è stato neppure un grande eroe europeo, non ha avuto la capacità e il suo mito di assurgere i stessi valori, che ovviamente invece ha assurdo il mito di Carlo Magno, ma forse questo è il bene per Carlo V. La fine del Medioevo vede il consolidarsi delle maggiori monarchie europee. È in questo periodo che Spagna, Francia e Inghilterra pongono le basi per la formazione di solidi stati nazionali. In Spagna il re Ferdinando il Cattolico completa la rionificazione del paese, congiungendo le corone d'Aragona e Castiglia e cacciando definitivamente gli arabi. Il suo regno si avvia a diventare una grande potenza mondiale, grazie alle enormi ricchezze che presto arriveranno dalle colonie americane. La Francia di Luigi XII, reduce da una guerra secolare contro l'Inghilterra, da paese frammentato secondo il tradizionale modello feudale, si va trasformando in monarchia assoluta, con l'accentramento dei poteri nelle mani del re. Anche l'Inghilterra vive un determinante cambiamento politico. Nel 1485, all'indomani della guerra civile delle Due Rose, sale al potere Enrico VII Tudor. Con la dinastia Tudor il potere monarchico acquista una forza e un'autorità straordinarie, che saranno alla base della grandezza dell'impero inglese nei secoli successivi. Lo scacchiere europeo vede poi altri territori più frammentati e instabili. Il sacro ritorno romano impero germanico, retto dagli Asburgo ma diviso in principati che minano la sua unità, e l'Italia, smembrata in tanti piccoli stati regionali e politicamente molto debole. Sarà proprio a causa di questa debolezza che le dinastie regnanti del continente, in particolare gli Asburgo e i re francesi, daranno vita ad accese lotte per il controllo della penisola. lotte che si concluderanno solo nel 1559 con la pace di Cato Cambresì. Carlo V è erede della dinastia degli Asburgo, una delle più antiche dinastie europee. Ovviamente come tutte le dinastie poi anche gli Asburgo hanno inventato la loro genealogia incredibile, i loro antenati mitici, ma certamente l'Asia degli Asburgo è stata una delle più antiche dinastie europee, durata fino al 1740, quando poi morirà l'ultimo vero Asburgo, l'imperatore è Carlo VI. Bene, Carlo V è l'erede di una dinastia, di questa grande dinastia europea e come tale è capace di mobilitare non solo se stesso, ma di mobilitare tutte le risorse della dinastia. E il dinastia degli Asburgo è anzitutto una grande consorteria, ha sempre funzionato come una consorteria. C'è certo il capo della consorteria che sarà lì sempre eletto imperatore, ma un altro membro della famiglia può essere arciduca del Tirolo, un altro membro può essere mandato a governare i Paesi Bassi, sarà il caso di Margherita, la zia di Carlo V, colei che accoglierà Carlo V, bambino a Bruxelles e che lo educherà finché non diventerà re di Spagna. E così Carlo V potrà contare appunto sulle risorse della sua famiglia dinastia. Potrà contare sul fratello, più giovane, Ferdinando, cui dal 1521 affiderà il controllo, il governo, la politica dell'area germanica e quindi il confine con l'impero ottomano, delicatissimo. Potrà contare sulle sorelle, potrà contare sulle zie, le zie da parte di Asburgo ma le zie anche da parte materna, lui era il figlio di Giovanna, figlia a sua volta dei re cattolici, quindi potrà contare anche sulla dinastia e sugli aiuti appunto che potevano venire dalla famiglia dei re cattolici. Un'altra sua zia da parte materna, Caterina d'Aragona sarà infatti regina d'Inghilterra, la prima sposa di Enrico VIII, ma potrà contare su altri membri della sua dinastia, altri nipoti, zii, ma soprattutto zie, figure femminili, la figlia Margherita, altre figure femminili che lo accompagneranno fino a Giuste, andrà a Giuste con due sorelle. Ebbene perché le figure femminili che noi abbiamo trascurato nelle storie delle dinastie sono invece figure centrali, non solo perché in qualche modo sia le figure in entrata apportano terre, apportano potere, apportano relazioni, ma anche quelle in uscita dalle dinastie, anche quelle sono figure centrali, creano legami e su quelli si creano i grandi poteri dinastici dell'Europa del XVIII secolo. Gli stati saranno stati patrimoniali, saranno stati di dinastie. Non a caso ancora nel XVIII secolo una dinastia può cambiare da uno stato all'altro, perché la visione del potere è per larga parte ancora una visione patrimonialistica del territorio e una dinastia può muoversi da un territorio all'altro, i Borboni dalla Francia diventare anche re di Spagna e così via. Ecco, questo ci spiega cos'è una dinastia, questo ci spiega anche come funziona una parte e non certo la parte minore della politica dell'Europa dell'età moderna. E se i legami matrimoniali di Asburgo sapranno contare, a partire dal XVII secolo diventerà un motto della famiglia. Ali Gerhant Bella, tu Austria Dube, cioè gli altri facciano la guerra, tu Austria sposati, tu Austria prendi i tuoi legami matrimoniali, lì farai la forza della dinastia. Ho un altro motto che diventerà diffuso come A-E-I-O-U, Austria Eriti in Orbe Ultima. Tu l'Austria resisterai sempre e resisterà non solo per i suoi eserciti ma anche per i suoi matrimoni. Quella sarà la forza e su questa forza Carlo V ha saputo contare. Su questa forza, mobilitando la sua dinastia, la sua consorteria, Carlo V ha saputo governare la parte del mondo che gli è toccata. Il sacro romano impero germanico ereditato da Carlo V è ciò che resta del grande regno fondato da Carlo Magno. Nel corso del Medioevo le lotte dinastiche e i conflitti contro il papato hanno causato il declino e poi la disgregazione dell'impero in tanti principati territoriali in lotta col potere statale. Nel 1356 Carlo IV di Lussemburgo promulga la bolla d'oro, un editto che introduce una basilare riforma istituzionale. La nomina dell'imperatore non avverrà più per mano del papa ma sarà decisa da un'elezione a cui partecipano sette principi tedeschi, i cosiddetti grandi elettori, che acquisiscono così un forte peso politico. Nonostante i cambiamenti, le tensioni tra l'imperatore e la potente nobiltà germanica non si placano, anzi si acquiscono in un continuo crescendo fino a metà del Quattrocento, con l'ascesa al trono degli Asburgo, la cui politica autoritaria provoca una serie di guerre intestine. Per ricomporre questi aspri contrasti, sul finire del secolo Massimiliano I d'Asburgo, il nonno di Carlo V, avvia una nuova riforma imperiale. L'obiettivo è dotare il regno germanico di un apparato statale più moderno. Innanzitutto viene creato un organo collegiale, formato dai più importanti principi tedeschi, con il compito di controllare la politica finanziaria e quella estera del governo. Vengono costituiti i circoli imperiali, una sorta di province alle quali vengono delegati alcuni incarichi amministrativi, come la riscossione delle tasse e la difesa dei confini. Inoltre viene istituito un tribunale centrale, sotto la giurisdizione dell'imperatore, destinato in primo luogo a dirimere i conflitti territoriali che insanguinano il regno. Il rinnovamento istituzionale di Massimiliano I lascerà ai suoi successori un impero sicuramente più saldo ed efficiente, ma non riuscirà a fermare il processo di indebolimento della corona, il cui potere diventerà sempre più formale che reale. Carlo V, eredita dal nonno Massimiliano, un impero già in qualche modo riformato, nel quale la dinastia degli Asburgo ormai conta, è capace di imporre alcune sue scelte politiche, alcune sue scelte di fondo. Certo, diventare imperatori non basta per diventare imperatori e essere il nipote del vecchio imperatore. L'imperatore ha una corona elettiva, come tale bisogna vincere lì dove ci sono concorrenti. Carlo V ebbe un concorrente, il re di Francia, Francesco I, quello con cui poi fu costretto a combattere in Italia, quello che portò prigioniero in Spagna, che firmò un trattato, come diremo dopo, e che questo trattato non rispetterà mai. E Carlo V dovette combattere, diventare imperatore, perché la corona imperiale è una corona elettiva. C'è un circo di elettori che si riunisce a Francoforte, ancora oggi. C'è quel bellissimo palazzo, si può visitare la sala dove avveniva l'elezione imperiale. E Carlo V, per vincere il suo concorrente, dovette ricorrere a grandi risorse finanziarie, perché molti elettori, o quasi tutti gli elettori ovviamente, vendevano il loro voto, non solo probabilmente per Avarizia o per Cupidigia, ma certo perché gli interessi politici passavano anche attraverso, il rafforzamento del potere passava anche attraverso le risorse finanziarie. E Carlo V ricorse ai grandi banchieri, che solo potevano aiutarle. Come tale, poi, con questi aiuti, ottenne la corona imperiale del 1519. Ma Carlo V era stato educato all'idea imperiale. A Bruxelles aveva avuto come precettore Adriano di Utrecht, un vescovo, che lui stesso poi farà nominare, riuscirà a far nominare, a far eleggere Papa nel 1522, e che prenderà il titolo di Adriano VI. E il precettore l'aveva in qualche modo educato a questa idea di essere principe cristiano e anche imperatore di un impero che si chiamava Sacro Romano Impero. Erede dal grande impero romano, quello di Augusto, ma erede dell'impero di Carlo Magno, dell'impero cristiano, l'impero che aveva combattuto per le crociate, l'impero che aveva combattuto per la difesa della cristianità. A Carlo V, ancora giovane, Erasmo aveva dedicato l'Istituzio Principis Cristiani, un testo su cui Carlo V si è formato. E a Carlo V, appena eletto imperatore, il suo grande cancelliere, Gattinara, Mercurino Arbolio di Gattinara, aveva dedicato un memoriale nel quale gli ricordava la sua missione di imperatore cristiano, imperatore che deve guidare tutto il popolo unendolo in un unico regno, sotto un unico sovrano, ma un sovrano cristiano, investito in una missione divina, investito in una missione di garantire l'integrità e se non di rafforzare quello che era il Sacro Romano Impero. E Carlo V si è sentito questa missione di imperatore del Sacro Romano Impero. Certo, nelle condizioni in cui poi ha dovuto svolgere la sua vita, la sua vita politica, in un impero che dal 1517, quindi già prima della sua elezione, si trovava diviso tra luterani da un lato e cattolici rimasti fedeli a Roma dall'altro, un impero che in qualche modo doveva fare i conti con l'espansione dell'impero ottomano e dall'altro bisogno di difendere la cristianità contro l'espansione, contro l'aggressione che veniva dalla costa nord-africana, dai pirati, che non solo ovviamente venivano a disturbare l'economia, a interrompere i traffici, a rubare, ma venivano a rapire popolazione, a redder la schiava. E come imperatore, non solo come re di Spagna, Carlo V, proprio come re dell'idea imperiale, si trovò ad affrontare le due, a gestire le due grandi spedizioni, contro Tunisi e contro Algeri. Il segno è quello di essere imperatore cristiano. L'idea imperiale ha contato. Alla fine Carlo V certo ha dovuto in qualche modo abbandonare questa sua missione imperiale, ma non l'ha tradita affidando l'impero al suo fratello minore, a Ferdinando, anche Ferdinando. Anche i successori di Carlo V si sono sentiti e investiti di questa missione di essere sacro romano imperatore, di difede la cristianità. E l'hanno fatto ancora un secolo dopo Carlo V, nella guerra cosiddette dei Trent'anni. L'hanno fatto con la guerra che hanno in qualche modo avuto la loro origine, nella volontà degli Asburgo di ricattolicizzare una parte dell'Europa che era diventata protestante. Questa è l'origine della guerra dei Trent'anni. Questo in fondo è quello che Carlo ha lasciato anche ai suoi successori. Certo, l'azione era cambiata. La Germania non era più quella dell'inizio del Cinquecento, ma gli Asburgo hanno saputo tenere questo tratto di essere ancora per la parte del Seicento imperatori del sacro romano impero. Carlo V ha ereditato la scoperta dell'America, di quelle regioni del mondo che già dal 1507 si chiamano appunto America, perché così il geografo Waldseemuller l'ha indicato in onore di Amerigo Vespucci. Carlo V ha già ereditato la prima scoperta del nuovo mondo, non solo i navegatori spagnoli, ma anche i navegatori che navigano per conto della Francia, per conto dell'Inghilterra e che vanno esplorando le coste settentrionali di questo nuovo continente. Carlo V ha ereditato anche il nome di Oceano Pacifico, che gli aveva dato Magellano. Carlo V ha ereditato quindi già questo avvio, questa prima scoperta, questa prima presenza degli spagnoli in queste nuove terre, in queste terre sconosciute. Ma quando arriva Carlo V, ancora il dominio spagnolo è fermo nelle isole, Santo Domingo. Sarà sotto Carlo V, a partire dal mese 516, che gli spagnoli organizzeranno la prima spedizione, quella famosa, quella di Hernán Cortés, che forzando la stessa volontà del sovrano, sbarcherà sulle coste di quello che oggi noi chiamiamo Messico e ingaggerà la sua lotta spietata, che finirà con la sconfitta dell'impero aziteco e con la prigionia e poi uccisione del loro imperatore Montezuma. Ma Carlo V ci penserà un po' prima di riconoscere questa espansione delle colonie spagnole. Carlo V solo dopo riconoscerà a Hernán Cortés il titolo di governatore di questa nuova realtà, cui sarà data il nome di Nuova Spagna e che più tardi sarà costituita come viceregno, legato ovviamente alla monarchia spagnola. E in questi sei anni sotto Carlo V un'altra ospezione spagnola si indirizzerà verso il sud, verso l'America meridionale, andrà lì dove c'erano gli altri imperi, degli Incas, dei Maya, costruirà Lima e sarà lì la prima traccia dell'altro viceregno importante che gli spagnoli, che Carlo V costruirà nel corso della sua vita, quello che si chiamerà il viceregno del Peru. E a questa vicenda si collega la tragica, triste epopea degli indios americani, dei nativi americani, che saranno, come tutti sappiamo, sterminati in pochissimi decenni. Non sappiamo quante fossero gli indios americani, i nativi americani, prima dell'arrivo degli spagnoli. Potremmo calcolare, così è stato fatto, tra gli 80 e i 100 milioni. Certo è che a metà del Cinquecento, dopo 40 anni, questa popolazione è decimata, nel vero senso della parola. Si calcola che gli azitechi fossero ridotti, se no, a 2 milioni. E così anche quelli che abitavano nei territori degli Incas o nei territori dei Maya. Le cause sono note, non solo le grandi epidemie, il vaiolo, il fatto che queste popolazioni non avevano quelle difese contro i germi o contro i virus che invece gli europei avevano in qualche modo maturato nella loro storia, e il sistema di organizzazione economico, amministrativo, che stravolge la vita dei nativi, che avevano vissuto per secoli in quelle terre. La nuova organizzazione del lavoro agricolo, l'organizzazione del lavoro in miniera, uomini che vengono allontanati dai loro villaggi e mandati su lì, sulle montagne. Questa è la realtà a cui si troveranno a far fronte, da un lato, gli amministratori, i governatori, i polici, ma dall'altro anche i missionari cristiani, mandati a evangelizzare. Perché questa è la ragione per la quale questi territori erano stati fidati agli spagnoli e in parte ai portoghesi, dal Papa, per evangelizzare. Ecco perché i nativi americani non furono mai fatti schiavi, perché non potevano essere schiavi. Non erano uguali agli altri schiavi conquistati in battaglia, come saranno gli schiavi dell'Africa. Erano degli uomini da evangelizzare. E questa fu la grande scommessa dei cristiani e dei missionari, che porterà a un grande rivolgimento della società di questa intera regione del mondo. Evangelizzare voleva dire convincere o voleva dire obbligare a diventare cristiani? Voleva dire seguire la maniera dolce? Voleva dire invece sbattezzarli a forza o in qualche modo convincere a diventare cristiani e sopprimere chiunque opponesse resistenza a questo richiamo a diventare cristiani? Questo sarà il grande tema che attraverserà la cultura, la religione, ma attraverserà la politica spagnola per tutti i primi decenni del XVI secolo e che segnerà fortemente la politica degli Asburgo nei confronti delle popolazioni native e delle colonie americane. Nel 1542 Carlo V, prendendo atto della grave situazione in cui si trovavano le popolazioni dei nativi, darà luogo alle cosiddette nuove leggi americane. In qualche modo un tentativo di mitigare lo sfruttamento delle popolazioni indigene e al tempo stesso di mitigare anche la violenza dell'evangelizzazione. Non a caso sarà Carlo V ad appoggiarsi sul vescovo Bartolomei de las Casas, come altri in qualche modo inclini a un'evangelizzazione per così dire dolce, a un'evangelizzazione che non doveva passare per la spada ma per la croce, non doveva passare per l'obbligo ma per la convinzione. E questa è la storia, è l'inizio di una storia drammatica, tragica, della cristianizzazione delle popolazioni native dell'America meridionale. Un ruolo fondamentale nella prima fase della colonizzazione spagnola dell'America Latina è svolto dai conquistadores come Cortes e Pizarro. Questi avventurieri attraversano l'oceano atlantico spinti dal desiderio di guadagno e, dopo aver sottomesso le popolazioni locali, spesso si occupano in prima persona di amministrare i nuovi territori. Il sovrano spagnolo ne legittima l'azione concedendo loro speciali diritti feudali, in particolare attraverso l'istituto giuridico dell'encomienda. Sulle terre ricevute in assegnazione, i coloni spagnoli possono esigere tributi e prestazioni obbligatorie da parte degli indigeni, diventando così i veri padroni dei domini, che governano soprattutto per il proprio interesse. Per riportare i nuovi territori sotto il controllo della monarchia, il re decide di creare due vicereami retti da funzionari posti alle sue dirette dipendenze. Per primo viene costituito nel 1540 il vicereame della Nuova Spagna, corrispondente all'attuale Messico, e due anni dopo nasce quello del Peru. Lo sfruttamento delle risorse del Nuovo Mondo arricchisce la Spagna, che grazie allo spostamento del traffico commerciale dal Mediterraneo all'Atlantico diventa rapidamente una potenza coloniale. Ma l'ingente afflusso in Europa di oro e argento provenienti dalle miniere americane provoca anche effetti negativi sull'economia spagnola, fa aumentare i prezzi delle merci e riduce il potere di acquisto del denaro. Queste particolari condizioni economiche, unite al clima di instabilità politica della seconda metà del Cinquecento, determinano l'inizio della decadenza che caratterizzerà la storia della Spagna nel corso dei secoli successivi. E' su questo sfondo che possiamo collocare e dobbiamo collocare anzitutto Carlo V. Carlo V nel contesto delle grandi monarchie spagnole. I due regni di Aragona e il regno di Castiglia, che si erano unificati grazie al matrimonio dei nonni dello stesso Carlo V. Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona. Ecco, e Carlo V eredita questi regni, li eredita nel 1516, dopo la morte di Isabella e di Ferdinando. E' eredita e li governa in qualche modo facendo fuori la madre, Giovanna, che avrebbe dovuto invece a lei sì ereditare questi regni. Giovanna che passerà la storia come Giovanna la locca, la pazza. Probabilmente perché lo stesso Carlo V ha voluto in qualche modo emarginarla, metterla fuori dalla scena della politica e come tale rinchiuderla lontana. E lì Carlo V in Spagna ha vissuto molto. Durante i suoi 40 anni di regno, Carlo V ben 16 anni li ha passati in Spagna, a più riprese. All'inizio è stato in Spagna dal 1517 al 1520, poi ha vissuto ancora in Spagna dal 23 al 29, e infine a più riprese fino al 1543. Carlo V, ma con la nomenclatura e nella storia dei sovrani spagnoli è Carlo I. Carlo V è stato davvero anzitutto un sovrano spagnolo, attento agli interessi della Spagna. Certo non all'inizio, non all'inizio del suo regno, quando quei suoi consiglieri borgognoni, quei suoi consiglieri non abituati ai costumi, non abituati agli equilibri politici, non abituati ai rapporti con i grandi signori delle monarchie spagnole, si era trovato in qualche modo in contrasto con il quadro politico e il quadro sociale dei suoi nuovi domini. E Carlo V per qualche modo finanziare la sua politica imperiale, nel 1519 ricordo che aveva dovuto concorrere, che stava concorrendo alla elezione imperiale, aveva bisogno di finanze, aveva bisogno di un grosso incremento delle proprie finanze per pagare, in qualche modo corrompere gli elettori e i sacro romani impero, beh Carlo V aveva pensato in qualche modo di ricorrere alle risorse dei suoi regni spagnoli e come tale aveva in qualche modo, aveva voluto incidere nell'organizzazione delle città della Spagna, imponendo al suo modo delle nuove forme di amministrazione. E questo aveva suscitato la grande rivolta, la grande rivolta delle città spagnole, quella che nella storia noi chiamiamo la rivolta dei comuneros, 1520, cioè subito dopo l'imposizione della nuova riforma amministrativa. E Carlo aveva in qualche modo saputo prendere atto di questa rivolta. Certo, l'aveva fatto sconfiggere, ma l'avevano sconfitta non i soldati di Carlo V, l'avevano sconfitta anzitutto gli stessi aristocratici spagnoli, che nel 1521, in una grande battaglia, avevano fatto fuori l'esercito dei comuneros. Ma Carlo ha recepito questa lezione, ha capito che non si potevano stravolgere gli equilibri interni delle due monarchie spagnole che lui aveva ereditato in quel momento. Ed allora Carlo sarà davvero un sovrano spagnolo. Nelle file dei suoi condottieri, nelle file dei suoi consiglieri politici, avranno posto sempre più esponenti che vengono da questi regni spagnoli. E Carlo sarà un re attento agli interessi della Spagna e delle sue nobiltà. Sarà attento all'amministrazione, come ricordato prima, delle colonie spagnole. Creerà un consejo della Sindas a Madrid per amministrare dal centro le colonie americane. Ma al tempo stesso sarà attento alle vicende italiane, come vedremo tra poco. Si occuperà non solo di quelli che erano già i possedimenti spagnoli in Italia, cioè Napoli e Sicilia, ma interverrà pesantemente nella penisola italiana fino ad incrementare la presenza spagnola e a gettare le basi di quella che sarà l'Italia spagnola del XVI, XVII e buona parte anche del XVIII secolo. Ecco, Carlo V fu davvero un sovrano spagnolo. È lo sfondo dei regni spagnoli e deve essere uno sfondo che dobbiamo sempre tenere presente, senza dividerlo però dalle altri scenari di cui Carlo V fu protagonista e di cui parleremo tra poco. Carlo V ha ereditato le guerre d'Italia come ha ereditato le colonie spagnole o l'avvio della colonizzazione del cosiddetto Nuovo Mondo. Le ha ereditate perché le guerre d'Italia erano cominciate nel 1494, prima ancora quindi che Carlo V nascesse a Ghand nel 1500. Ma Carlo V si trovò a vivere, a gestire, a governare queste guerre d'Italia. Nel 1520, quindi all'indomandi della sua elezione imperiale, quasi approfittando delle difficoltà, delle incertezze, delle debolezze del giovane imperatore. Ecco, in quel 1520 il re di Francia, Francesco I, occupava nuovamente Milano. Il tentativo di prendere francesi a questa parte d'Italia e di interrompere in qualche modo l'accerchiamento che la diassia degli Asburgo stava portando alla sua monarchia. Gli Asburgo ormai controllavano l'Europa centrale, i domini ereditari degli Asburgo e le monarchie spagnoli. In qualche modo stavano estendendo il loro potere nella parte più viva, più ricca, più importante dell'Europa del XVI secolo. Francesco I cerca in qualche modo di introdurre un cuneo in questi grandi e stessi poteri territoriali e cerca di conquistare Milano. Ma Milano viene respinto. Torna di nuovo e cerca in qualche modo di riconquistare lì a qualche anno la Lombardia, di rendere nuovamente questo territorio un forte luogo di presenza francese per dare fastidio a questa sorta di grande monarchia degli Asburgo che va appunto da Vienna, dalla Germania, arriva fino a Siviglia, fino a Cadice, fino a Granada. E cerca a Pavia in qualche modo di combattere, di avere una grande battaglia. Ma la battaglia sarà la battaglia perdente di Francesco I. Non solo perderà l'esercito francese, ma lo stesso sovrano verrà fatto prigioniero. portato in Spagna sarà costretto a firmare una pace in qualche modo vergognosa, a promettere la restituzione di tutti i territori conquistati e ovviamente il ritiro dal milanese. Ma tornato libero ovviamente. Non vuole rispettare questi patti. Si organizza una grande lega, la lega di Cognac, che vede insieme il Papa, vede insieme Firenze, vede insieme Venezia. Di nuovo il tentativo della Francia di tornare sul suolo italiano in funzione anti-asburgica. Ma anche il tentativo della lega di Cognac, andrà a male. Andrà a male per la Francia, andrà a male per i suoi alleati italiani e soprattutto per il papato. Il Papa Clemente VII sarà costretto a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo perché Roma nel 1527 viene presa d'assalto, saccheggiata dall'esercito di Carlo V. Un esercito composto dai cosiddetti lanzichenecchi, da circa 12.000 soldati di gran parte luterani, i quali si abbatteranno su Roma col furore non solo dei soldati che hanno fatto una grande campagna militare, ma di coloro che vedono in Roma la Babilonia, come aveva detto Lutero nei suoi importanti sermoni. Coloro che vedono in Roma il nemico di una cristianità adesso riformata e che deve e che può rinascere, anche dalle ceneri della Roma papale, della Roma della cristianità. E il racconto di Benvenuto Cellini, anche lui rinchiuso a Castel Sant'Angelo, ci fa vivere spesso la drammaticità di quei momenti. Ebbene, passato il sacco di Roma, il Papa Clemente VII, ma anche i re di Francia dovranno fare la pace con Carlo V. E Carlo V potrà in quel modo diventare a quel punto il regista della nuova sistemazione della politica italiana. 1530 Carlo V sarà incoronato a Bologna, imperatore del sacco romano impero, dal pontefice. Sarà l'ultima volta che si solgerà un'incoronazione imperiale, il vecchio modello medievale. Sarà l'ultima volta che un imperatore sarà in qualche modo unto, avrà la corona direttamente dalle mani del Papa. L'ultimo sacro romano imperatore che sarà il protagonista di quella splendida cerimonia che era appunto l'incoronazione imperiale. Nel 1535 riuscirà in qualche modo a improtonirsi anche dello Stato di Milano dopo la morte di Francesco II Sforza. Nel frattempo consolidirà il suo controllo del regno di Napoli, del regno di Sicilia, ma al tempo stesso controllerà anche quella che una volta era la Repubblica di Firenze. Carlo V quindi diventa il grande padrone dell'Italia e darà via quella che sarà la storia dell'Italia spagnola. Un'Italia spagnola che seguirà fortemente non solo alla corona spagnola, non solo seguirà fortemente la storia dell'elite italiana nella storia dell'occultura, ma approfondamente anche il modo di formarsi della coscienza nazionale italiana che sarà formata a partire dal XVIII-XIX secolo su un elemento di fondo che è anzitutto l'antispagnolismo, il tentativo di abbandonare quella società barocca, quella società fatta di privilegi, quella società fatta di soprusi che racconterà così bene Manzoni nei Promessi Sposi. Ecco, Manzoni e i Sobrevessi Sposi saranno il punto di arrivo in qualche modo, ma anche al tempo stesso il punto di partenza della formazione della scienza nazionale che vedrà nell'Italia spagnola l'Italia della decadenza, l'Italia della fine del suo primato, l'Italia della fine della sua cultura, l'Italia dove, come diranno poi i viaggiatori inglesi l'XVIII secolo, avrà troppo Papa e troppo Spagna. Carlo V eredita le colonie spagnole, eredita le guerre d'Italia, eredita ovviamente il far fronte, la necessità di far fronte alla grande espansione dell'impero ottomano. L'impero ottomano che si era consolidato nell'Anatole aveva cominciato una grande espansione già dall'inizio, del XIII e poi nel XIV secolo. 1389 la battaglia del Kosovo segna l'avvio di una grande espansione dell'impero ottomano nella penisola balcanica. 1389 il Kosovo, 1453 la fine ufficiale di quello che era rimasto del grande impero bizantino, cioè dell'impero romano d'Oriente. Le truppe ottomane entrano a Bisanzio e Bisanzio diventerà una città dell'impero ottomano, una città di musulmani, una città in cui le grandi chiese saranno trasformate in moschee, una città dove vivranno imperatori, dove vivranno i grandi personaggi della corte imperiale ottomana. E l'espansione continua sempre più a nord, irresistibile. 1526 le truppe ottomane a Moac sconfiggono Luigi II di Agellone, cioè l'ultimo grande re di Ungheria. Gran parte dell'Ungheria diventa ormai una provincia ottomana. 1529 le truppe ottomane assediano Vienna. Sembra una crescita, un'espansione contro cui gli Asburgo poco possono fare. Sembra che ormai l'Europa centrale possa diventare terra dell'impero ottomano. Nei domini asburgici, lontano Carlo V, impegnato in quegli anni in Spagna, c'è adesso il fratello, il giovane fratello di Carlo V, Ferdinando, dal quale fin dal 1921 Carlo V aveva dato, aveva delegato il governo dei domini asburgici. I domini quindi Alta, Bassa Austria, la Carniola, il Tirolo, la Carinzia, la contea di Gorizia. Ebbene, sarà Ferdinando a organizzare la difesa. Le truppe ottomane probabilmente sono ormai sfinite. Dopo il viaggio è troppo lungo. È una spedizione troppo lontana dalle basi di partenza del loro esercito, delle loro forze. La battaglia si svolgerà a favore delle truppe cristiane, a favore delle truppe degli Asburgo. E l'assedio verrà respinto. Non solo, ma di lì a poco si arriverà a un trattato, a una pace tra l'impero ottomano e gli Asburgo. E si sistemerà in qualche modo quest'area centrale dell'Europa, divisa a metà, tra gli Asburgo da una parte e l'impero ottomano dall'altra. Lungo un confine che gli Asburgo chiameranno il confine militare e che sarà al centro di tutte le tensioni, tensioni militari, civili, politiche, che diventerà esso stesso un mito, pensando quanti romanzi saranno ancora nel XX secolo dedicati a questo confine militare che divide i cristiani, non dai non cristiani, ma cristiani dagli ottomani, che taglia in due comunità cristiane, in qualche modo occidentali, ma anche comunità cristiane ortodosse, che segna il confine tra gli ottomani e l'impero, il sacro romano impero, l'impero degli Asburgo. Un confine che resterà non fermo, certo, non fisso, ma in qualche modo lì, piantato lì fino all'inizio del XVIII secolo, quando appunto sarà allora l'esercito asburgico guidato dal principe Eugenio di Savoia, in qualche modo a ribaltare questa lunga storia secolare. Se per secoli, dal XIII al XVI secolo, erano state le truppe ottomane a risalire i Balcani, dalla fine del XVII secolo, saranno le truppe cristiane, le truppe in gran parte degli Asburgo, ma poi anche le truppe russe, degli ortodossi, dei Romanov, a ridiscendere lunghi i Balcani e a schiacciare l'impero ottomano nuovamente nell'Anatolia, fino alla sua morte nel 1918. Questa è una storia che quindi ha segnato fortemente la storia europea, la nostra società, la difesa di un confine militare che è stato in qualche modo il confine lungo il quale si sono riconosciute storie di quelle che poi saranno le nazioni balcaniche a partire dal XIX e del XX secolo. Il 31 ottobre 1517 il frate agostiniano Martin Lutero affigge sulla porta della chiesa di Wittenberg, nella parte orientale della Germania, le sue celebri 95 tesi. A così inizio il processo di rinnovamento della religione cristiana, noto come riforma protestante. Nel volgere di qualche decennio, infatti, si genera una vera e propria spaccatura dell'unità che aveva caratterizzato il mondo cristiano, con conseguenze profonde sul piano spirituale e teologico, ma anche su quello politico. Le tesi di Lutero prendono le mosse dalla decisa critica di una pratica comune nella chiesa di Roma del primo Cinquecento, la vendita delle indulgenze. La possibilità di ottenere dal pontefice l'annullamento delle pene previste nell'aldilà, con il semplice pagamento di una somma di denaro, diventa ben presto il simbolo della più generale degenerazione morale e della corruzione della curia e del papato. La disapprovazione di questa pratica diventa lo spunto per una nuova dottrina, che fa subito molti proseliti e che si basa su alcuni principi rivoluzionari. Secondo la teologia protestante, per esempio, non esiste il libero arbitrio. L'uomo è in balia del peccato e le sue azioni non hanno il potere di redimerlo. Solo la fede e la grazia divina possono salvarlo. Un altro concetto fondamentale è l'affermazione del sacerdozio universale e del libero esame delle sacre scritture da parte dei credenti. Dunque, il rifiuto del ruolo di mediazione della Chiesa ha a favore del rapporto diretto dei fedeli con Dio. Alle questioni religiose della riforma si fondono presto gli interessi politici. Nei territori del Sacro Romano Impero i principi tedeschi vedono nello scisma protestante un modo per contrastare la creazione di un grande regno cattolico da parte di Carlo V. Questo avrebbe significato la perdita della loro indipendenza e autorità. Si inaugura così un periodo di guerre religiose che si concluderà quasi 40 anni più tardi con la pace di Augusta. L'Europa, già dalla fine del XV secolo, l'Europa cristiana, l'Europa del cristianesimo occidentale, aveva vissuto forti tensioni sul modo di intendere la vita religiosa, la spiritualità, la Chiesa. Nel XV secolo si affermava in Europa quella che si chiama la devozio moderna. C'è un sentimento, un bisogno di vivere in maniera più spirituale, più intensa la stessa vita religiosa. E Carlo V fu educato alla devozio moderna, fu educato a questa spiritualità. Si sentì gli stessi investiti di questo bisogno di chiedere maggiore spiritualità, un modo diverso di vivere la religiosità cristiana. In Germania, lo sappiamo, la riforma ha una data precisa, 31 ottobre 1517, quando Martín Lutero, un monaco agostiniano, affisse, o meglio ancora, forse inviò al suo principe territoriale, 95 tesi in cui non solo criticava, ma definiva eretica la posizione del Papa, che con le sue indulgenze, con la pratica delle indulgenze, con la vendita, tra virgolette vendita ovviamente, delle indulgenze, in qualche modo si arrogava il diritto di rimettere quella che era la giustizia divina. Sappiamo come è finita. 1518, Carlo V, su pressione del pontefice, dichiara in qualche modo eretico e mette al bando dall'impero Martín Lutero, il quale lo scappa dall'impero. Si rifugia presso il suo principe di Sassonia e lì lavorerà nel castello della Wartburg, lavorerà lì alla traduzione dell'Antica e del Nuovo Testamento. Ecco, nel 1520, solo allora, il pontefice con la bolla exurge e domini, in qualche modo, offrirà a Lutero ancora l'ultima possibilità di ritrattare le sue posizioni. Lutero ovviamente non cadrà in questa ritrattazione, ma a quel punto approfondirà sempre più le basi della sua dottrina e la sua proposta di una chiesa e di un cristianesimo riformati. E lì sorgerà la prima grande frattura. Lutero sarà sempre affiancato dai principi, principi territoriali, mossi non solo dall'avidità, dalla possibilità di conquistare le terre dei monasteri, delle diocesi, delle vecchie chiese cattoliche, ma mossi anche da un sincero e onesto bisogno di una diversa spiritualità. Non è soltanto una rivolta dei tedeschi contro Roma in nome degli interessi nazionali. Certo c'è anche quello, ma è anche proprio l'esigenza di una nuova spiritualità religiosa, di un nuovo modo di vivere il cristianesimo, di un nuovo modo di organizzare le chiese locali. E Lutero sarà accanto ai principi nel momento più difficile che la riforma in qualche modo innescherà, cioè la rivolta dei contadini, una rivolta in cui elementi radicali convinti dalle parole di Lutero vorranno tradurre in modi e in temi sociali quello che era invece per Lutero una sola riforma religiosa. E in quell'occasione Lutero sarà accanto ai principi con tutta la sua forza, con tutta la sua retorica, con tutta la sua spietatezza. E Lutero in questo modo vincerà la sua battaglia, però sarà la battaglia sua della Chiesa riformata, diventerà la battaglia di molti patriziati cittadini, di molti principi tedeschi e contro questi poco potrà fare ovviamente l'imperatore Carlo V. Le diete in cui cercherà di avviare un dialogo tra i principi rimasti cattolici, le città rimaste cattoliche e invece i principi e le città dell'impero ormai passati o convinti ormai dal messaggio riformatore di Martín Lutero. Le due diete, diete di Spira nel 1529, lì i cosiddetti luterani, quelli convinti a Lutero, i principi e le città avanzeranno le loro proteste contro Carlo V. Ecco da lì il nome di protestanti che ancora oggi noi affibiamo a tutti coloro che hanno in qualche modo creato una chiesa la cui origine sta nel messaggio di Martín Lutero che hanno quindi rotto la cristianità occidentale. E poi il 1530, la dieta di Augusta. Qui i protestanti, quelli che ormai si chiamano protestanti, presenteranno una formulazione dottrinale, precisa e compiuta di una spiritualità, della necessità di organizzare una chiesa, una confessione ormai lontana da quella cattolica. La frottura è compiuta. Non resta a Carlo V altro che augurarsi in qualche modo una riconciliazione, una ricomposizione. In questo in qualche modo spingendo lo stesso Papa a promuovere un nuovo concilio, un concilio che il Papa farà fatica a proporre, farà fatica a mettere in campo. E il Papa davanti al sorgere, davanti al fuoco che il messaggio di Lutero ha acceso non solo in Germania ma ormai in larga parte d'Europa il Papa ha difficoltà ad indire finalmente un concilio dove in qualche modo i luterani e quelli cristiani rimasti fedeli a Roma potessero in qualche modo discutere insieme e trovare una ricomposizione in un'unica chiesa, in un'unica confessione religiosa. Ormai il messaggio di Lutero aveva invaso non solo alla Germania ma tante regioni del nord la Scandinavia la Svezia la Danimarca la stessa Inghilterra dove Enrico VIII si era dichiarato un primo momento defensor fidei cioè alleato del Papa contro Lutero aveva poi vissuto la svolta della chiesa anglicana e il messaggio luterano era arrivato anche nella profonda Italia profonda Italia meridionale è arrivato lì quasi vicino a Roma Venezia Ferrara Lucca nel sud Italia addirittura verso la Spagna lì era arrivato il messaggio luterano e la Germania ovviamente che rimane al centro dell'attenzione di Carlo V non sarà Carlo V poi a risolvere a risolvere questo contrasto che non si sanerà più sarà come sempre quel fratello Ferdinando il giovane fratello Ferdinando il controllo della politica imperiale nell'area tedesca e sarà appunto Ferdinando a gestire e a firmare quella che si chiama la pacificazione di Augusta 1555 la pace di Augusta segnerà una prima riconoscimento di una pluralità di cristiani all'interno dell'area tedesca pluralità di due confessioni quella cattolica e quella luterana si stabilirà che nelle città libere dell'impero cattolici e luterani potranno convivere le due confessioni le due chiese potranno convivere nei territori invece dove ci sono principi territoriali lì sarà il principe a stabilire la confessione dei sudditi lì vale l'uniformità religiosa perché uno dei principi su cui ormai si basa il potere territoriale un principe è anche l'uniformità religiosa se il principe è luterano i sudditi dovranno essere luterani se il principe è cattolico i sudditi devono essere cattolici e chi non è luterano nei principati cattolici devono andare via perdendo tutte le proprietà tutti i propri beni è lo stesso che è cattolico lì dove vinge un principe dove governa un principe luterano questo ovviamente non è una forma di tolleranza la tolleranza è un valore più complesso su cui rifletteranno dopo i grandi intellettuali XVII-XVIII secolo ne parlerà Spinoza poi ne parlerà Voltaire ma la tolleranza non vuol dire regolamentare due confessioni la tolleranza vuol dire anzitutto accettazione della libertà di coscienza vuol dire anzitutto accettazione che esistano anche gli atei perché come diceva Spinoza anche gli atei possono essere virtuosi possono essere cittadini virtuosi ma questa è un'altra storia una storia molto lunga nel frattempo nella Germania nel 1555 abbiamo però un primo momento in cui si regolano la convivenza tra due chiese tutte e due dei cristiani occidentali luterani e cattolici nel 1521 a seguito del dilagare della ribellione luterana e del fallimento di ricondurre Lutero alla dottrina tradizionale Papa Leone X decide di scomunicare il frate e di condannare la sua teologia come eretica ma la diffusione delle sue idee in tutta Europa è ormai inarrestabile la reazione della chiesa che prende il nome di controriforma è rappresentata da un concilio fortemente voluto da Carlo V e tenuto a Trento tra il 1545 e il 63 sul piano dottrinale i padri conciliari operano una netta chiusura al protestantesimo negando la tesi luterana del sacerdozio universale dei credenti riaffermando l'autorità della chiesa nell'interpretazione delle sacre scritture e confermando il valore delle opere buone per la salvezza dell'anima essi inoltre riconoscono la superiorità del papa ribadiscono la validità dei sette sacramenti e raccomandano la venerazione dei santi e della vergine la chiesa esce dal concilio profondamente riorganizzata anche sul piano disciplinare viene infatti confermato l'obbligo del celibato ecclesiastico si istituiscono i seminari per dare valida preparazione spirituale al clero e tutti i sacerdoti sono costretti a risiedere nella propria sede il latino viene imposto come lingua ufficiale della chiesa e per far conoscere i principi fondamentali del cattolicesimo alla gran massa dei credenti viene creato il catechismo la controriforma determina una linea decisamente repressiva evidenziata dalla sacra congregazione del santo uffizio e dall'indice dei libri proibiti il tribunale dell'inquisizione conduce infatti una dura lotta contro ogni forma di eresia e la censura contrasta la riforma imponendo un controllo serrato proprio sullo strumento che aveva favorito la circolazione delle idee luterane la stampa 1555 la pace quindi di augusto la pacificazione in aria tedesca carlo quinto prepara la sua successione ma non è la successione di chi prende atto della sconfitta della sua politica sarebbe troppo facile eleggere in questo modo la voglia di ritirarsi dalla scena politica non è solo la fine di un sognatore che prende atto della realtà non è l'eroe di un mito romantico di chi ha voluto perseguire il disegno di un imperio si trova invece in un'Europa di stati sempre più forti di chi ha voluto essere l'imperatore del sacro romano impero in qualche modo esponente di una missione in qualche modo investito di una missione religiosa si trova invece a governare un impero dove ormai i cristiani occidentali sono divisi in due chiese se non addirittura in tre di chi non può più contare su alleati su altri sovrani cattolici le altre dinastie con cui gli asburgo imperentati diventeranno spesso dinastie quelli che si chiamano ormai protestanti così Tudor e la moglie di Enrico VIII la prima moglie Caterina d'Aragona zia di Carlo V sarà infatti ripudiata e Enrico VIII su quel divorzio poi costruirà anche una delle motivazioni della riforma della costruzione della chiesa anglicana e così molti principi tedeschi la solidarietà tra l'imperatore e i principi tedeschi non passa più neppure per una comune appartenenza a una chiesa certo sono tutti cristiani ma cristiani ormai divisi che per 150 anni non rinunceranno a combattersi con la spada non solo cattolici e luterani o cattolici e calvinisti ma anche all'interno dei protestanti calvinisti e zwinglani anche loro faranno i conti sul filo della spada non sul filo dell'idea o sul filo della parola e Carlo V quando rinuncia al suo impero rinuncia non solo ritorna a dire perché vede il suo sogno sconfitto ma per un altro motivo che noi dobbiamo a questo punto sottolineare c'è la suo essere profondamente cristiano il suo sentire e non sarà il solo sovrano non è stato il primo sovrano e non sarà certo l'ultimo sovrano dell'Europa della settore età moderna a ritirarsi dal potere sono sovrani che avvertono il potere come onere come peso questo è quello che avverte Carlo V non solo non solo appunto la sconfitta dei suoi progetti perché i progetti Carlo V non crede che saranno sconfitti quando lascia l'Europa centrale a chi? al fratello Ferdinando che già da 35 anni governa quelle aree e lascia questo potere a un fratello che ha già saputo respingere l'impero ottomano che ha saputo fare la pace con Solimano il Magnifico e la Spagna chi la lascia a Filippo che è già collaudato nella sua capacità di governo a Filippo Carlo V rivolgerà dei consigli preziosissimi costringerà Filippo II a un lungo viaggio per l'Europa perché conosca i suoi regni e Filippo II è una pedina importante della politica di Carlo V sarà Carlo V a far sposare Filippo II con Maria Tudor l'erede del regno d'Inghilterra e quindi come tale quella che poi passerà alla storia con Maria la sanguinaria ma che ha saputo regge il governo inglese e riportare in qualche modo la cattolicità o comunque il tentativo di ricattolicizzare l'Inghilterra anglicana di suo padre Enrico V bene Carlo V non sta rinunciando alle sue idee compie un lungo viaggio accompagnato da una comitiva all'inizio di 150 persone si imbarca dalle Fiandre raggiunge poi lentamente le coste spagnole la sua comitiva da 150 si ridurrà quando Carlo V si ritirerà nel suo palazzo a Iuste saranno solo 50 ad accompagnarlo e in questo lungo viaggio riceverà un solo omaggio quella della moglie Filippo II Maria Tiudo Maria regina d'Inghilterra che manderà a omaggiarlo alcune sue navi proprio in segno di omaggio in segno di riconoscimento del lavoro dei progetti della sua capacità di governare l'Europa ecco Carlo V gli ultimi due anni li passerà a Iuste non si affacerà più sulla scena politica li passerà in preghiera li passerà pensando e preparandosi a quella che era la buona la buona morte e lì morirà nel 1558 morirà lasciando una traccia forte certo e torno a dire non più nelle pubbliche piazze Carlo V è un eroe è un imperatore troppo complicato per chiudere in quelle storie nazionali che celebriamo che hanno celebrato i nostri nonni i nostri padri noi stessi celebriamo le nostre pubbliche piazze sopravviverà solo nei grandi ritratti e tra i ritratti c'è proprio anche l'allegoria della bidicazione Carlo V sul trono davanti a Carlo V da un lato i nativi americani dall'altro degli orientali non meglio identificato ovviamente ma potrebbe essere gli orientali dei Balcani l'impero ottomano o i cosiddetti musulmani che lui ha cercato di combattere sulla costa nord africana bene al lato ci sono poi i suoi consiglieri i suoi cortigiani i suoi eredi ma dopo questo ritratto c'è uno degli ultimi ritratti Carlo V seduto su una sedia il viso ormai stanco ma ancora agli occhi vivi vivaci che ci dicono che il suo ritiro non è certo nel sedio della sconfitta è segno invece di una rinascita spirituale e come tale credo che Carlo vada anche valutato come un eroe che ha saputo rinunciare al potere come un eroe che ha saputo capire che il potere è onere che si può essere imperatori si può avere combattuto i luterani gli ottomani andati in Africa la battaglia di Tunisi di Algeri riconquistate in qualche modo buona parte dell'Italia ma al tempo stesso poi Carlo V è stato assoluto un uomo del suo tempo e il suo tempo è quello segnato certo dal trionfo della Roma cattolica riascimentale ma anche segnato da Lutero cioè dal bisogno di un profondo ripensamento religioso e questo è stato Carlo V di un profondo